Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di come impostare i macros all'interno dei nostri pasti giornalieri. Una domanda che mi viene fatta spesso, e ho fatto due video che credo siano piuttosto interessanti su Rhino Nation, ossia come impostare la dieta nei giorni on e come impostare la dieta nei giorni off. Quindi come partire dai macros, quali macros settare e come dividerli in tutti i pasti nostri giornalieri. Quindi rimando a quei video per entrare molto nello specifico, però per ora vi faccio un po' una presentazione generale, vi do degli spunti di riflessione senza entrare veramente troppo nel vivo e rompere le scatole con il discorso della gestione dei macros. Allora, innanzitutto, le impostazioni dei macros sono qualcosa che conta, che non conta? Bisogna ragionarci, ecco il timing dei nutrienti, quello che è definito timing dei nutrienti, ossia come ripartiamo i macros nella nostra giornata, è uno dei fattori che effettivamente ha un impatto su quello che riguarda le nostre capacità di adattamento alla nostra composizione corporea in generale. Quindi sì, va la pena tenerne conto. Come dobbiamo fare? Lo vediamo tra un attimo. Allora, tre macros, carboidrati, grassi e proteine, ragioniamo su questi e partiamo dai carboidrati. Per quanto riguarda i carboidrati, dobbiamo far fronte a quella che è la nostra capacità di gestione dei carbo, sono il principale nutriente energetico del nostro corpo, soprattutto per noi bodybuilder che facciamo un sport anaerobico, quindi sono il macronutinente fondamentale, essenziale. Quello che tendiamo e dovremmo tendere ad alzare il più possibile in fasi di bulk è quello che dobbiamo tendere a salvaguardare di più in fasi di cut, perché ci può dare più benefici dal punto di vista di performance, di composizione corporea, di ipertrofia, di condizioni sul palco, eccetera, eccetera. Quindi la nostra capacità di gestione dei carbo è fondamentale, non basta mangiare tanti carbo, ma dobbiamo anche avere un corpo che riesce a gestirli al meglio, o meglio, il ragionamento in realtà è inverso, il nostro corpo deve arrivare al punto per cui richiede tanti carbo e ha bisogno e può gestire tanti carbo, e noi semplicemente dobbiamo darglieli, perché arriva a quel punto quando lo stimolo di adattamento ipertrofico è massimo. Per cui, come impostarlo, come gestirli, eccetera? Allora, tendenzialmente è veramente, veramente intuitivo. Vogliamo dare al corpo quello che chiede nel momento in cui lo chiede. Quando è che chiede i carboidrati? Al ridosso dell'allenamento, quindi pre, intra e post workout. Questi tre momenti sono fondamentali, inseriamo un quarto momento che è il post, post workout, quindi il pasto ancora dopo il nostro post workout, quello successivo. Ora, regola generale che io tendo a porre è di andare a mettere il 50% dei carboidrati nella peri workout nutrition, quindi tra pre, intra e post, se vogliamo il 70% dei carboidrati tra pre, intra, post e post, post workout. Fino anche al 100%, quindi tutti i carboidrati tra pre, intra, post e post, post workout. Quindi vediamo che in questa finestra possiamo veramente concentrare quanti più possibili. Cosa scegliere tra il 50, 70, 100%? Quanti carbo mangiate. Se state a 400 grammi di carbo, metteteli tutti in questi quattro pasti. Se state a 800 grammi di carbo, inizia a diventare un po' più complesso dal punto di vista di digestione, assimilazione e capacità gastrointestinale. Ok, quindi generalmente il mio consiglio è partire dall'intra workout e prendere 0,5 grammi per chilo sotto forma di ciclo d'estrine, quindi per esempio peso 80 kg, prendo 40 grammi di ciclo d'estrine nel mio intra workout. Nel post workout 2 grammi, 2,5 grammi per chilo di peso corporeo, quindi peso 80 kg dai 160 fino ai 200 grammi di carboidrati, nel mio pre workout 1 grammo per chilo di peso corporeo, quindi più o meno peso 80 kg, un 80 grammi di carboidrati. Non voglio appesantirmi troppo nel pre workout, questo è il motivo principale per cui non amo pre workout troppo densi, troppo carichi. Ok, voglio avere una lenta emissione di glucosio nel torrente ematico che verrà stabilizzata, come vediamo, da un piccolo intake lipidico e poi per il resto ci vencerà il mio intra workout a mantenere la glicemia stabile, successivamente ci sarà un piccolo caldo glicemico, uno shifting parasimpatico e a quel punto andrò a mangiare il mio post workout e voglio avere uno spike insulinico. E ci arriviamo tra un attimo. A questo punto i carbo più o meno rimanenti metterli nel mio post post workout e poi ripartirli in maniera abbastanza normale e frazionata, insomma ben ripartita, proporzionale nel corso della giornata. Però dare prevalenza sempre al post post workout, quindi il pasto ancora dopo che normalmente andrebbe fatto tra le due ore e due ore e mezza dopo il mio post workout. Ok, questo per quanto riguarda i carboidrati. Ora, parlando di proteine, il consiglio è di dividerle semplicemente in maniera uniforme nel corso della giornata. Ho fatto diversi video riguardo le proteine, quante prenderle, quali prendere, eccetera. Il mio consiglio è di stare tendenzialmente bassi di proteine, magari nella peri workout nutrition stare anche un filo più bassi e implementare con degli aminos essenziali. Quindi io normalmente utilizzo il protesamine nel mio pre workout, un serving, otto capsule, immediatamente prima di allenarmi, non nel pasto pre workout. L'unica cosa che prendo è immediatamente prima di allenarmi. Poi intra workout le Alphatec, che sono delle idrolizzate del salmone con un'altissima ritenzione di azoto e un pool aminocidico fantastico. Nel post workout, subito dopo essere allenato, di nuovo il protesamine e da là nel post workout tendo ad avere poche proteine rispetto agli altri pasti. Però posso semplicemente poi gestirle in maniera uniforme negli altri pasti. Insomma, non serve a cervellarsi troppo. Il discorso che faccio io è che più carboidrati mettete nel post workout, più volete stare a un filo più bassi di proteine per non appesantire troppo da un punto di vista gastrointestinale. Ma dipende anche quanto state digerendo bene, come state da un punto di vista gastrointestinale, la microfono alberaterica come sta, eccetera, eccetera. In genere non è troppo un problema, però se sentite, vi sentite appesantiti dal post workout, scendete un filo di proteine. Per quanto riguarda i grassi, anche qua non c'è troppo da ragionare. Distribuiteli in maniera uniforme, l'unica cosa è che diminuiteli un filo nel post post workout e nel pre workout, in cui comunque devono essere presenti, e se possibile toglieteli dal post workout. Ora, qual è la gestione, la razio da un punto di vista di gestione glicemica? Pre workout. Metto un filo di carboidrati, più o meno un grammo per chilo, quindi ho una emissione nel torrente ematico, carbo anche che siano semplici ad alto indice glicemico, voglio che siano facilmente assimilabili, questo deve essere il concetto. Lo vado a fare due ore, tre ore prima di allenarmi, insieme ci metto una fonte proteica e una fonte lipidica. Non troppi carboidrati, io normalmente vado a prendere un 20 fino a 40 grammi di pasta di cacao, per esempio, di cui magari se vi interessa scrivete qua sotto nei commenti, farò un video specifico, e in questo caso avrò una stabilizzazione glicemica, quindi ci sarà questa mole di carboidrati che bene o male mi mantiene la glicemia stabile fino all'allenamento. Dall'allenamento ho il mio intra-workout, quindi vado a mangiare, vado a bere il mio intra-workout, e anche qua c'è una buona stabilizzazione glicemica nonostante l'allenamento fisico, quindi non serve un rilascio di glucagone, non serve che vada a prendere glicogeno da un punto di vista epatico, ma ci sarà una lenta emissione, perché le ciclotestrine hanno un alto peso molecolare, ma al contempo una lenta emissione nel torrente ematico. Insieme alle alphatec c'è un'ottima stimolazione della protosintesi, nell'intra-workout ho già fatto dei video, quindi non entro in specifico, a questo punto finisco di allenarmi. Di nuovo, il mio sistema nervoso autonomo, da che stava in orto simpatico, shifta pian piano in parasimpatico, utilizzo il magnesio bisglicinato un minuto dopo per favorire questo shift, una volta che shifta in parasimpatico sto nella miglior condizione possibile per digerire, ok? In questo caso vado a mettere il post-workout. Molto ricco di carboidrati, io sto più o meno sui treetti di cereali. Utilizzo cereali perché è l'unica cosa che posso mangiare senza grassi, o cereali o patate, però normalmente, essendo la mattina, vado ad utilizzare i cereali, faccio una bella bowl di treetti e con le whey, e in questo caso voglio non mettere grassi, voglio un forte spike insulinico, o meglio, non spike insulinico, però spike glicemico, a cui non corrispenderà un forte spike insulinico, perché? Perché i glut 4, i recettori del glucosio saranno in membrana, quindi tanti carbo entrano e tanti vengono recepiti a livello muscolare, quindi voglio che ci sia questo forte immissione, della serie vai, andate, nutrite e tutto quanto, il muscolo andrà a captare bene tutto quanto, e io vedo che nel giro di due ore e mezza, più o meno, mi torna di nuovo fame. non è una fame da ipoglicemia, la glicemia torna ad essere stabile, io c'ho il glucometro, controllo tutto quanto, come sapete, la glicemia torna ad essere stabile, in questo caso sono pronto per il mio post-post-workout, in cui vado ad inserire una certa quantità di carboidrati, e inserisco di nuovo i grassi, perché da questo momento in poi, voglio continuare ad avere una situazione di lenta emissione, una situazione di calma insulinica, quindi voglio che ci sia uno spike glicemico, soprattutto, e anche un minimo di spike insulinico, dopo il mio allenamento, però per il resto voglio una situazione di calma insulinica, nel resto della giornata, e questo favorisce anche un'ottima gestione del sistema nervoso autonomo, della cortisolemia e dei processi di recupero. Questo è più o meno tutto ragazzi, qualsiasi domanda scrivete qua sotto, sarò ben lieto di rispondere come sempre, e noi ci vediamo al prossimo video.